Eccoci qua www.malurizopoli.it, è in edicola in cartaceo, eccolo qua, anche in digitale su www.mondopadano.it, nuovo articolo di Giuseppe Andralli nel certo economia e lavoro nella rubrica risparmio e finanza, eccola qua, e ci parla di padre e figlio, torniamo sull'argomento, c'è l'indagine di Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria, sono i risultati dell'indagine, ma il focus è, per quanto riguarda la questione, è un momento cruciale per la questione successoria, dice che è più urgente che altrove, riguarda il momento storico in cui la ricchezza oggi è più tramandata che è creata ex novo, quindi più di 200 miliardi di euro di patrimonio sarà trasferito in generazione entro il 2025, quindi una questione molto attuale di riflettere e da riflettere e da leggere. Buona lettura!